Un attacco alla Premier Meloni perché ha dimostrato di essere una guida forte per il paese. Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste, è convinto che dietro l'ondata di profughi che sta invadendo la sua città ci sia una regia. Dalla cosiddetta rotta balcanica sono quotidiani fermi intorno al confine con la Slovenia. Mai vista un'invasione di migranti come questa a Trieste, tuona il sindaco che nella tarda serata di domenica ha ricevuto però rassicurazioni dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi che con una telefonata avrebbe garantito a Di Piazza che 200 migranti su 500 che avrebbero diritto all'accoglienza verranno portati via da Trieste. Un bel risultato, commenta il sindaco, sicuramente avranno il problema di Lampedusa con 4.000 persone ma Trieste non puoi abbandonarla così. Ancora non sono stati definiti i tempi dei trasferimenti, l'importante è che li portino via, dice Di Piazza, con cosa e quando non è un problema mio. Quanto alla possibilità di uno spot in Friuli-Venezia-Giulia di Piazza si è detto contrario a realizzarlo nell'area di Trieste. Se la si fa in Friuli, ha detto, l'area giuliana non ha gli spazi. Si può fare anche a 50 chilometri dal confine ma non cambia nulla. Anche perché, continua di Piazza, i francesi ce li mandano indietro, noi invece non siamo capaci di rimandarli né in Slovenia né in Croazia che sono il vero confine di Schengen. Intanto Lampedusa, in piena emergenza da giorni, arrivano 2.000 profughi ogni 24 ore che devono poi essere smistati su altri territori dove l'accoglienza non è sempre facile. A Padova 28 migranti, di cui 4 minori, sono arrivati nella palestra della scuola di Agraria San Benedetto da Norcia in città, mentre va rallentando la pressione anche sulle altre strutture destinate all'accoglienza straordinaria fino all'inizio dell'anno scolastico. Molti migranti lasciano le palestre messe a disposizione cercando fortuna in qualche altro angolo d'Europa.